Innanzitutto ti volevo chiedere come stai fisicamente, il problema al piede, senti ancora dolore o sei recuperato al 100%? No, diciamo che un piccolo fastidio lo sento sempre da quando ho avuto l'infortunio, diciamo molto meglio, però sento sempre quel leggero fastidio, però ora mi permette di giocare, di allenarmi abbastanza tranquillo e sì, diciamo che sto riprendendo piano piano la mia condizione perché comunque due settimane sempre fermo, fermo, fuori dal campo, un po' la perdi, quindi dai, sto cercando di rientrare come prima. Hai cambiato molti ruoli oggi, non hai iniziato a sinistra, poi sei passato a destra, poi alla fine hai fatto l'attaccante. Ti aspettavi di stare dentro 90 minuti? Mi aspettavo di stare dentro 90 minuti, questo non lo so, però sono sicuro che io personalmente in tutti i ruoli che ho fatto oggi o comunque che posso ricoprire do sempre il massimo, poi oggi è andata bene perché comunque anche se non avevo magari 90 minuti nelle gambe ho cercato di stringere i denti e di spingere fino all'ultimo e poi è arrivato il gol, è arrivato un buon pareggio, però sì, in qualsiasi posizione il misto mi faccia giocare o comunque gioco, mi cerco sempre di dare il massimo. Il gol, passati quasi tre minuti mi sembra, finché è stato convalidato, lì voi avete capito, l'arbitro ha detto qualcosa? No, diciamo che l'arbitro ha detto aspetto che i miei assistenti lo controllano bene, infatti poi in spogliato a fine partita parlando con i ragazzi è venuto fuori che il fuorigioco di Rafa era proprio in linea a linea, quindi diciamo che c'è stato un po' di suspense durante la partita e poi appena l'arbitro ha convalidato è scattata la gioia però sì, questi episodi qui quando segni e poi il VAR ti controlla il gol, comunque un po' di amaro in bocca, magari se te l'annulla te lo lascia, oggi è andata bene quindi esultiamo e sono contento. Ma lì avete subito capito che Rafa era quello che poteva essere fuorigioco o soltanto dopo la fine della partita? No, no, l'arbitro ha detto che c'era un fuorigioco e ha detto che poteva essere Odogu, quindi poi lui non sapeva precisamente chi era, però comunque poi parlando anche con Rafa lui ha detto che non sapeva, quindi non si poteva sapere al momento, poi a fine partita che abbiamo riguardato era lui, però fortunatamente era in gioco quindi va bene così. L'ultima cosa, la fascia che è passata per questa partita qua da Fabian a Masiello, è una scelta dal direttore allenatore o dalla squadra? No, questo io non sapevo niente, sono due ragazzi fantastici sia Fabian che Masiello, quindi per me sinceramente sono due punti di riferimento, quindi che faccia capitano Fabian, che faccia capitano Andrea a me non cambia niente, non me lo sono aspettato neanche io, però sono due persone che possono svolgere questo ruolo, quindi è stato giusto dare anche la fascia a Masiello. Grazie Matteo. Grazie a voi.